Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di come è fatto questo DVD VideoSoft Free Studio è un programma molto bello, che contiene anche questo e serve praticamente a tutto cioè a convertire da YouTube, scaricare musica da YouTube gratis fare video, registrare nel desktop video come vedete la grafica è perfetta è anche in 3D adesso aspettate che abbasso il volume tipo YouTube vedete potete scaricare i video da YouTube potete creare un file in più tra i video scaricati oppure iPhone o anche scaricarli per un DVD oppure potete caricarli su YouTube o anche su Facebook, c'è questa nuova novità poi qui potete convertire i file che avete appena scaricato aspettate, no, il file che avete appena scaricato per potete convertirli questo non so bene cosa sia questo è tagliare l'audio magari se vi serve questo qui è questo programma a scaricare i video questo qui è un altro per scaricare invece i video anzi adesso aspettate lo so andando vedere se ho scaricato perché mi servo per cui potete sentire tutte le notizie che vi danno il supporto tecnico che vi da Free Studio che intanto è tutto gratis e questi sono i download che potete fare ok se scaricate i DVD videosoft potrete scaricarvi tutte le altre applicazioni che invece vi scaricate singolarmente e come vedete ad esempio con questo andate su YouTube prendete un video e copiate il link del video adesso vi faccio vedere come si fa tipo sto caricando un video adesso vi farò vedere il mio canale stanno lavorando dei video come ad esempio uno dei primi video no 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 comunque guardate nei miei video tipo cerchiamo qualcosa di bello un videoclip che può piacere a tutti un classico ehm pes questa che sarebbe pubblicità però non è la nessuno aspetta chiudiamo il panno ok questa è una nuova canzone di del club d'ogo vediamo tipo potete cliccare qua se vi piace questo che ormai è famosissimo però comunque se vi piace se vi non l'avete mai sentito cioè se vi se volete vedere non l'avete mai sentito lo lasciate andare si va bene boh e lo lasciate andare lo dai se mi piace ok fate copia url del video e fai giungi file no si no città però ok bene allora se si muove quindi oggi mi sa che impareremo insieme ad usarlo beh io credo di far così ok ok lasciate stare questo non vi interessa vabbè comunque credo sia uguale a questo dopo scoprirete questo potete caricarle su un cd e basta questo qui è un po' tutto poi questi sono tutti gli altri programmi questi qui sono per i cd e i dvd per esempio questo infatti è per masterizzare un cd questo qui invece è per masterizzare un dvd questo qui è per convertire per il dvd questo qui è per masterizzare un cd audio proprio e basta poi ci sono le foto immagini i dispositivi apple questo per ipod per ipad per iphone e per apple dv ci sono fatte le immagini questo potete registrare lo schermo questo invece è creare le foto in 3d questo qui è renderle foto normali scusate che non va bene vabbè google e questi sono per scaricare per android per blackberry per motorola per nokia phones per samsung per lg per sony psp per xbox per wii c'è anche per ps3 ed è tutto gratis e questo è bello poi c'è la funzionalità del 3d dove posso rendere delle foto in 3d o anche dei video che magari servono bene grazie a tutti e ci rivedremo alla prossima puntata